Pac, la mia edicola, mia nel senso che mi... Fabio Hipster, tra Hipster e padre Mariano, che era un prete, che in televisione diceva pace e bere, vabbè. Caro Fabio, ma se io volessi comprare un giornale porno per poi tornare a casa e masturbarmi, lo troverei? Purtroppo no, non li mandano più, non escono più. Perché, come facevo io una volta, arrivavo, vabbè, lascia stare questa lista militare, compravo l'oggetto per l'onanismo doveroso e scappavo per non farmi di corsa. Adesso invece, adesso invece, rimettiamo a posto, non arrivano più. No, perché si appellano tutti a internet. Lascia stare, però, chi non ha internet, potrebbe anche venire qui e furtivamente, con la mano che trema, controllare la parete. Grazie a vedere. No, proprio non li ricevete più. No, ma so... Ma non li richiedete a voi? No, hanno proprio smesso di mandarli da qualche anno ormai, penso. Capito, capito. Quindi... Da qualche anno. In compenso arriva Gianni Morandi, è arrivato Gianni Morandi. Ma questo è amico mio, questo qua, De Gregori si chiama. È poco famoso pure lui. Un amico, un amico. Infatti, bravo, pure amica mia. Però, se invece io volessi capallero, oppure OV, OOS, credo che OOS fosse per i gai, invece OV era per l'eterosessuale. Troppo, questo perché io sono giovine, ho 26 anni, non saprei... Giovine, sì, OV, ora verità, si chiamava, con la testata arcobaleno, con... Vabbè, bello che doveva essere. Vabbè, sono venuto a comprare un giornale perché oggi vengo attaccato dai fascisti che dicono che non sono più quello di una volta. Mi sarei perso per strada. Vabbè, ti ringrazio Fabio. Grazie a lei. Non mi dare te lo. Giusto. Ti facciamola. Grazie Fabio. Grazie a te. E questi come fanno? Se questo che arriva voleva comprare Caballero o Playman per farsi una sega rinfrescante, adesso sarà costretto a occuparsi di aeronautica. Di rivista aeronautica. Di rivista aeronautica. Arieti 1, crociate. Ecco, dalla sega rinfrescante a crociate, chi le vuole, chi le vuole, chi le vuole a te. Diciamo che era meglio un po' di sano... Onanismo. Auto. Esatto. Ah, sano onanismo. Grazie Fabio. Grazie a te. Ti dice Fabio, non Fabio, come dicete a Roma. Ridi, ridi. Lo dicono tutti, con 3B pure ogni tanto. Ciao.